Buongiorno a tutti e grazie mille per il gentile invito agli Stati Generali della Lissinia. Da veronese che vive all'estero da 11 anni è sempre un piacere per me incontrare persone del mio territorio e portare la mia esperienza in Commissione Europea. L'incontro di oggi sulla sostenibilità concide con una delle priorità della Commissione Europea. Infatti l'iniziativa di un Green Deal europeo propone di trasformare l'Unione Europea in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e della competitività, garantendo che nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra e che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse. Tutto questo senza che nessuna persona e nessun luogo siano trascurati. Il Green Deal europeo è anche la nostra ancora di salvezza per lasciarci alle spalle la pandemia del Covid-19. Come sapete, in risposta al Covid, l'Unione Europea ha creato un nuovo strumento da 750 miliardi suddivisi tra sovvenzioni e prestiti. Questo strumento si chiama Next Generation EU, nuova generazione per l'Unione Europea, e si aggiunge al quadro finanziario plurinale della Commissione Europea di circa 1.100 miliardi per il periodo 2021-2027. Il Next Generation EU è stato approvato circa un anno fa nel Consiglio Europeo più lungo della storia. E' bene ricordare che il Next Generation EU è uno strumento di emergenza, una tantum, attivato per un periodo limitato ed esclusivamente ai fini della risposta alla crisi. Le risorse saranno recuperate dalla Commissione sul mercato attraverso le emissioni di titoli europei garantiti dal bilancio dell'Unione. L'intervento del Next Generation EU sarà rivolto a finanziare sette programmi divisi in tre pilastri. Il dispositivo di ripresa e resilienza, di cui avete sicuramente letto sui giornali, rientra nel primo di questi tre pilastri che si chiama supporto agli Stati membri. Esso assorbe oltre il 90% delle risorse totali e si tratta del più grande piano di investimenti della storia dell'Unione. Un terzo di questi miliardi finanzionando il Green Deal europeo, sostenendo azioni in diverse aree, tra le quali vi segnalo l'agricoltura, l'industria, la ricerca e l'innovazione, ma anche energia, trasporti e lo sviluppo regionale. La Commissione Europea ha fatto una serie di proposte che variano dal piano di azione per l'agricoltura biologica al piano per azzerare l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo. Queste proposte devono ora essere discusse dal Parlamento e dal Consiglio. Potete trovare tutti i dettagli sul sito della Commissione Europea e vi incoraggio di andarle vedere con attenzione. L'Italia ha avuto la quota più grande del Next Generation EU perché siamo una grande paese in termini di prodotti interno lordo e di abitanti e la quota di ripartizione viene calcolata sui valori assoluti e non relativi. Come ben sapete, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia è stato approvato dalla Commissione Europea e lo potete trovare sul sito internet del Governo. Vi consiglio di leggerlo con attenzione per vedere quali spese vi possono interessare e capire se queste vengono delegate alle regioni oppure gestite centralmente dai ministeri. Il passo successivo poi sarà ovviamente interloquire con regioni o ministeri o attraverso le associazioni di categoria per cogliere le opportunità che ritenete più interessanti. Per ultimo vi incoraggio a cercare, o continuare a cercare perché lo sta già facendo, le altre opportunità che continuano a essere offerte dai programmi dell'Unione Europea e che continuano ad esistere e sono recentemente stati rivisti nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea. Grazie mille e buon lavoro!